Dottoressa Bovo, si celebra oggi qua a Tracastoro ad un anno dalla sua attivazione il momento dedicato alla illustrazione dei risultati del progetto ARCA, assistenza ricerca cura per l'anziano. Quali dunque i concreti risultati? L'importanza di questa giornata è legata alla presentazione di risultati, risultati sia in termini clinici che in termini organizzativi. È molto importante che un'azienda sanitaria renda queste cose trasparenti, faccia vedere i passi in avanti che si sono fatti. In termini di risultati abbiamo avuto attivazione di sportelli per l'anziano, per l'anziano fragile, abbiamo avuto percorsi facilitati ma abbiamo anche dei risultati clinici. Un esempio tipico è quello relativo all'orto geriatria, piuttosto che alla presa in carico per esempio dei pazienti terminali dai nuclei di cure palliative, piuttosto che la continuità delle cure che viene garantita attraverso per esempio l'ospedale di comunità di Tregnago. Tra i risultati anche l'integrazione delle tante professionalità, il team che con il progetto ARCA in qualche modo si è coagulato. Un bel risultato per una direzione sanitaria. Uno dei più grandi risultati di ARCA, anzi il principale io credo, sia quello che abbiamo iniziato in modo effettivo ed efficace a lavorare in team. Team costituito non esclusivamente dall'ospedale da solo, dal distretto da solo, dalla casa di riposo da solo, ma da gruppi di professionisti che lavorano nei diversi contesti assistenziali che si ritrovano costantemente proprio per facilitare i percorsi dei pazienti. Si parla oggi di cure integrate, l'integrazione si fa costruendo dei ponti soprattutto tra i professionisti.